Buongiorno, penultimo appuntamento con le affinità zodiacali qui su se... Molto bene, molto bene! Bene, bentornati, imperdibile appuntamento con il boeroscopo dedicato alle attività ectrascolastiche, cosa fate voi? Sesto appuntamento con il boeroscopo dedicato alle attività... cosa? Buongiorno, sesto appuntamento con il boeroscopo dedicato alle attività... ma perché attività? Buongiorno, sesto appuntamento con il boeroscopo dedicato alle attività... Devo stare attento a cosa dico... consiglio alle amici della Vergine un partner al stesso... Consiglierei a un sagittario di relazionarsi con un ariete, con una bilancia... Non è vero? Sì, era giusto! No! Perché se c'è una cosa che non piace al sagittario è sentirsi il fiato sul collo... Perché se mi dovrebbe sentirsi libero... Consiglio un ariete, consiglio un leone, consiglio sto c***o... Perché non mi ricordo più chi che devo consigliare... Qua un segno capace di amori profondissimi e con la caratteristica di niente... Per arrivare a portarlo a fare sto c***o... Ho trovato un grande calore, ovviamente... Attenzione perché ovviamente il segno... Non l'ho detto ovviamente due volte, porca... Invece... L'acquario nel segno estremamente indipendente... Molto bene! Molto bene! Ciao! Ciao! Ciao e buona settimana! Ciao! 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 Grazie a tutti.